altre anomalie, faremo pure quelle mi sono arrivata in botto dei giochi recentemente, mi sono iscritta su un sito che manda le chiavi ai creator mi sono arrivata una cifra di cose Akai, On, ciao fanchic On significa donna, Akai è un colore, che cos'era Akai? Mi ricordo rosso la donna è rosso still allora mettiamo intanto in 1080 non window, full screen, balanced back io spero che non sia come quell'altro come quell'altro dei chillas che faceva cacao ultimamente hanno fatto un po' hanno lasciato un po' a desiderare questi chillas e Nervy lo devo sentire per non domani, a questo punto vi direi giovedì vi direi giovedì con Nervy domani voglio sentire le canzoni voglio vedere le canzoni di Sanremo e voglio finire Silent Hill domani che è mercoledì e giovedì facciamo con con Nervy mo io scrivo, ma se ho scordato scrive io si sta vedendo a narisa pure lui Rosanna era in bianco questa è la cugina ah I got home late home late it's dark around here and I need to get home soon va bene move, interact cazzi è mazzo va bene oh merda la guy on la donna in rosso non mi pare che c'è una bella faccia comunque l'unica motivazione per questa cosa è che volevo come ammazza che puttanone ma dove va ma dove dovrebbe andare la signorina a quest'ora per gioco d'anomalie delicata a person from earlier seems pretty dangerous I'm scared I have to go home soon c'è la donna di prima sembrava piuttosto pericolosa devo andare a casa subito fanno un po' dei moschi a chi già ma la vedo eh già ma la vedo che devo che devo andare devo cominciare a cuore oh oh è una trappola mi vuole far cuore no non posso andare non è che qualcuno lo sta a seguire perché sta vabbè ho votato di qualcosa però ma che strada insomma che cazzo ne so sti ricolletti giapponesi si mettono un'ansia ma voi vedete qualcosa raga tutto buio zio pera è tutto buio mannaccia mignotta io posso tranquillamente tranquillamente ma perché c'è sta cosa della telecamera davanti ma quale cazzo è casa mia più che altro ultimo piano l'ultimo piano la seconda mo che cazzo devo fa perché mi fa vedere la stanza che devo scappar ma frate te prego perché mi fa vedere la ma mia sti condomini giapponesi sono proprio brutti cuori a casa frate cuori a casa ma questo è dei chillas questo gioco non mi ricordo non ci ho fatto caso c'è nista luce con due una pistola un proiettile spu per fanno all'ingresso mi piace idea vatta a fare un bagnarolo vatta a fare un bagnarolo ma non è che mi ritrovo il puttano dentro casa no non è un po' alto però sto volume scusa mi sembra un po' eccessivo cioè che è oh that's strange I guess I forgot to turn it off I'm tired I'm going to bed today e vatta a dorma il gioco go home non mi ricordo go home Annie che cos'era quello che avevamo fatto oh mio dio che è sta cosa di nuovo oh no oh no oh no oddio che è tipo uno yokai porcollo sporto ma questa non era la strada che abbiamo fatto ieri wait aspetta ma mortacci tua sono la polizia te vedo che sei la polizia che stai a fa' a quest'ora sto a torno a casa sto a torno a casa che devo fare at this time of night ma che cazzo vuole questo vado a voler un ospedale che c'è ne sospetto ma tu sei sospetto guarda come sei vestito guarda che panza poi stai mercolizzato but you don't seem to be lying eh ma vedi un po' I can tell by the look on your face by the way do you always go this way si I always go this way when I have lectures at the university did you go this way 3 days ago boh comunque sicure ah c'è stato un omicidio 3 giorni fa the victims were a couple the perpetor first murder his sleeping wife the perpetor first murder his sleeping wife the perpetor kills her husband who came back after that the body was said to have been stabbed many times and was in in using state ma perché c'ho la luce ma quando vabbè you did you see any suspicious I saw the woman in red I saw a man running the man on the run perhaps it could be an important clue I'd be to hear more about it and later basta sta luce it's already and later ne posso andare ma perché c'ha la luce lui ma se ne sta andà i giochi sono tremendi eh ma chi è ma chi era ma fetta al pasto frate muori incontra madonna in rosso ma che cazzo di rumori so ma perché è tutto buio è sempre più buio sta strada ma poi non passa una macchina una bicicletta una cosa oddio oddio madonna in rosso dove sta oh mio dio ma perché è tutto buio ma voi vedete qualcosa io vedo un cazzo aiuto madonna mia che palle ma che so sti corbi ma che so sti corbi oh fa più un attimo e tra la gente dorme mentre lui passa il tempo all'università tutta la notte ma infatti un po' stranello arrivo subito ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I don't want to go down the road again. Non voglio più andare in strada. Ho fame. Mi chiedo se c'è qualcosa nel frigo. Oh, Santa Maria. Questa è una sega. Quanta cazza la devo mettere sta pizza? No, ma io non apro. Ma hanno bussato? Ma stai buggato? Che devo fare? Dai, devo mettere nella vasca sta pizza? No, raga, sono riuscito a buggare pure questo. Non ce credo, eh. Dai, frate, non ce credo. Ho buggato. E' indossarmi i gronde. Ah. No, ma che aprite? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh my God. Oh my God. Ma questo c'ha... Ma che era? Ma non dice niente del fatto che qualcuno ha bussato fortissimo alla porta? Oh mio Dio. Ma che cazzo devo fare? Ma non mi dà più niente da fare. Ma... Oddio. 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 dovresti stare attenzione ho visto una strana stendendo in front of the door a few times it was very creepy so I thought I should tell you about it that's it see you soon oh mi sta un boccantrolata oh mio dio buonasera PR non sembri meglio per niente chiù di chiù ho paura un corvo oh no I'm going to bed already ma che cazzo ma questo non è normale dai vabbè è successo di tutto il corvo si è sbragato sul barcone e questo vabbè penso che andrò a letto ok allora whatever quello che ti pare zì che amo ma questo è l'uomo di prima che scappava che correva hello did you work every time today yes I've been busy with work lately I don't be able to go home on this on the time this month more than that it's so rare for you to call me what's going on I have an important story to tell you I want to talk to you at home so come home soon ma questo è sta parlando di di quei tizi dell'omicidio di prima che sta parlando al poliziotto la moglie ha chiamato il marito per dire torno a casa qui gatta c'è cova qui cova c'è gatta ah e mo lui I'm home sono tornata a casa is my wife already sleeping tutti ha la lampadina tutti ha la torcia c'hanno mia moglie sta già dormendo qualcosa mi dice co stronzà la moglie non la trova farò andare a rogarmi no ma perché me devo perché me devo che brutta storia accesso numero uno e il cucino e il accesso numero due ma che sta su mio dio mio dio te prego ma non scappa c'hanno un cuore ho fido mignotto mo torna su vedamo gli angry falletti chiusa ma com'è tutto perché è tutto chiuso oh mio dio perché che cazzo si è aperto allora oh dio oh dio oh dio oh dio che devo guardà ma forse devo andare fuori cioè conducono qui scusami che cazzo cioè qualcosa dovrà succedere no? o no? donna che palle sti giochi ti giuro che palle perché c'è sangue dappertutto lui questo è il suo passo normale medio normale ha la televisione ingrifata che cazzo che era? oh dio oh mio dio ma è che cazzo fai ma è che cazzo dentro il frigo non mi fa aprire il frigo e battano a casa sei già a casa però vabbè vattene via vattene amore se la pinda è il culo se rimani a casone a gaionna si però oddio oddio oh no kidding me no no è non buono questo qui ma che ha ammazzato con i sparapunte come ha ammazzato who could have visited me at this hour ma secondo te frate oddio santissimo gesù guarda che porpaccia a gaionna ancora lei ma sta a cercare clienti che vuole che vuole ma si no che fa questo coglione questa mamma è stupenda devo chiamare la polizia come cazza che mi ha avuto la polizia lo ha detto i said it would take two minutes for the police to arrive i have to endure it for another two minutes nooo nooo e che cazzo se inventamo devo resistere per altri due minuti nooo nooo ma veramente va e dove nascondi qua ma passano ma passano attraversa la porta buonasera fra ma scusa ma come faccio io come faccio a nascondermi cioè da questa cosa scusa ma dove dovrei nascondermi in questo in questo posto nascondete il barcone sotto il letto ma non ma non se nascondere ora ma mi ha preso subito lei quando entra devi uscire di casa ma come faccio a saperlo da ma che cazzo è ma che merda ma perché si giochi così che devo fare porca ah dai scusa ma ha fatto 27 passi stava ancora qua davanti che cazzo fa dai ma che gioco di merda porco due ma che gioco di merda è dai ma che cazzo vuol dire ma che segni ma come esco dalla parte di casa matt mi ha visto cioè non non posso correre via ma non posso correre via ma dici di uscire subito di casa ah ma perché ah ma perché lei arriva qui scusa ma non sta davanti porco sì vabbè ma che cazzo c'ha i pattini c'ha magari scivolata dentro la camera ah ma che ragazzi ma non è possibile ma non è possibile ma che cazzo devo fare metti davanti la porta d'ingresso appresenti il rumore del vetro rotto la porta si apre ah ecco ok ah e devo cuore porco di due facciamo la torcia e che cazzo si inventamo qua frate scusami un attimo io che cazzo devo fare mo il parcheggio del palazzo che cazzo è un cavallo ma che d'è ma che d'è ma che gioco è ma che l'ha fatto sto gioco sta cavalluna dai che d'è orco due chiudi qua dai dove ha il parcheggio sotto ti sei subbato raffae orco due raffae grazie per la sabb raffae non è uscito però devi ricondividere prova come faccio ad andare al palazzo al parcheggio del palazzo ma ma questa che d'è dai sorella ah siamo fottuti e sta mannacontri che cazzo devo da ma dov'è mi sembra una cosa fattibile frate orco due come corre ma 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 che fa ma che devo fare mamma mia ragazzi brutto gioco orco due tre euro di gioco sta cagata signore santissimo beato no schifo è finito sasi che cazzo schifo ho pagato tre euro sto gioco che merda voglio vedere come finisce almeno guarda almeno ma che rimborso non me lo fanno rimborsare che devo fa vai crouch appena bus e te metti no mi prende in bagno ho già fatto sette volte voi raga non so che div come non mi vede adesso basta ma non mi crauccia si mi crauccia e che devo fare quindi vai dietro la macchina dici sta bastarda mi ha rotto il vetro mi ha rotto ma che devo che devo fa la scatola di cartone è qua nel parcheggio mi sa che ci sei in cura di nuovo io rimarrei qua oh porco tu hai visto una sgambettata sta pezza di merda grazie api grazie mille scendere dal palazzo andare a sinistra in fondo dovrei uno scatolo con un'arma scendere dal palazzo ma sto scatolo di merda ma io do cazzo l'ho trovato adesso mi sgambetta comincia a fare cavalla ma nel parcheggio sta sta scatola ma non si vede andare a sinistra in fondo e troverei uno scatolo con un'arma ma non sta nel parcheggio avere una specie di bambola ho due ma nel parcheggio ah sta in una strada non sta nel parcheggio ma così a gratis cioè così a gratis vabbè raga veramente giochi di merda ragazzi ma come si fa a giocare sta roba raga veramente è una roba indecente è indecente sta roba zì veramente non capisco perché mi ha preso cioè sono a base del nulla proprio ma due minuti così è un inferno sì sta tipo in una strada sarà in sta strada che cazzo ne so sono andata in quella del primo ma ho preso subito senti sta già cavarca muvulona ria cacqua ria cacqua appena scendi dal palazzo versi in stai sempre dritto ma non era questa strada che ho fatto era giusto ma non devo trovare la cosa la scatola quindi era lì sulla sinistra quindi era dritta lì giusta era giusta e che cosa tipo dentro un portico pure lei sta partendo la pazzia segna la fa più se è rotta il cazzo ma vorrei vedere andiamo a vedere se c'è sto cazzo di scatolo come vede e la strada l'ha detto che era giusta no io c'ero arrivata fino alla fine rica comunque ah e che c'è faccio e che c'è faccio se arriva e come la colpisco appena appena mi vede appena arriva come la sbrago come la sbraga la puttanella ma mica ora come la colpisci adesso arriva stampieri ah 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 abbattana fa culo ma vedi che la polizia resta a me ora sono a me guarda the police arrived shortly the woman died ma come the woman said defense was admitted was not turned out that the murder of the couple was the woman she had a former affair with the husband who was killed in the ex ma io che c'entro in tutto ciò scusate io che c'entravo in tutto ciò a monster after rinzi a move out ma che cazzo se ne frega minchia le brutte copie di giochi fateo ma per carità de dios zio pero basta leva sto scioco de merda per prendere la cavalla questo è d'altro good good end lì c'erano anche più di una di un no vabbè veramente brutto eh cioè veramente brutto hai fatto tutti tutti i finali adesso lo rigioco da capo per farli tutti oddio franco good ending non ci posso credere o comunque la prima volta nella mia storia dei videogiochi su 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 twitch che faccio un good ending non faccio oddio ma sta sede è piccola non faccio mai good ending 3 euro sta merda manco posso rifondare perché ho finito ma tanto non l'avrei potuto comunque rifondare perché era quasi finito brutto eh mamma mia che brutto gioco che brutto gioco il gioco di ieri lo hai finito non ricordo porca domani sera ho famo silent hill purtroppo ho avuto dei problemi con la scheda d'acquisizione non mi potevo vedere la play sul computer perché sto cazzo di cosa mi dà problemi dato che però io non ci gioco quasi mai ai giochi di play non mi non mi ricordo capito di sta roba qua quando gioco da play ho il problema della scheda d'acquisizione che c'ha dei driver sfasati fallati non so per quale